Ennesimo grave incidente sulle strade Ravennati. A Cervi, intorno alle 1130 di quest'oggi, due vetture sono rimaste coinvolte in un sinistro lungo la strada Adriatica. Sul posto per soccorrere i feriti sono accorse due ambulanze, l'auto con il medico a borso e l'eli medica. Secondo le prime informazioni, i due feriti più gravi, un uomo di 83 anni e una donna di 79 che viaggiavano a bordo di un Alfa Romeo Giulietta, che è capottata nel fossato all'autostrada, sono stati ricoverati dal bufalino di Cesena, la donna in codice di massima gravità. Sul posto per ricostruire la dinamica sono giunti gli agenti e la polizia stradale di Ravenna e i carabinieri della compagnia di Milano Marittima Cervia. Solo lievi ferite per il giovane che viaggiava sull'Audi A3, che non è riuscito a evitare la Giulietta che si stava immettendo lungo l'Adriatica.